Succede tutto nella ripresa tra Folgore e Libertas, squadra di Falciano in vantaggio direttamente dal calcio d'inizio, Paolo Basile da centrocampo supera Matteo Zavoli, non l'unico a rimanere sorpreso dalla conclusione. La Libertas la pareggia sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Paganelli, poi sale in cattedra Imre Badalassi. L'attaccante di Falciano porta avanti i suoi al settantunesimo, grandissimo gol a giro che vale il 2-1. La Folgore allunga ancora con Badalassi al settantottesimo, questa volta la conclusione è di destro, doppietta che vale il 3-1. La Libertas prova a riaprirla con Lualdi che accorcia l'ottantesimo raccogliendo la respinta della traversa dopo il colpo di testa di Paganelli. Il trepenne fa due su due, si mantiene in testa al Q2 con la Juvenis Dogana, la squadra di città la sblocca al quattordicesimo con Nicola Chiaruzzi. Il trepenne raddoppia nel recupero del primo tempo con Michael Angelini, nella ripresa la Virtus la riapre subito con Skender. con la girata sotto misura. Poi diventa protagonista Michael Angelini, l'ex attaccante della Folgore, segna altre due reti. La prima al sessantaseesimo di testa sul cross da calcio d'angolo, poi la personale tripletta. Arriva nel recupero con la rete che vale il definitivo 4-1 per il trepenne. Al comando del girone c'è anche la Juvenis Dogana che batte 2-0 San Giovanni con una rete per tempo. Apre le marcature Antonioni al ventiduesimo del primo tempo, nella ripresa la chiude De Lì al minuto 67. Prima vittoria in stagione per il Faitano che torna a vincere dopo 259 giorni con il 3-2 al Cailungo. I gialloblu vanno sotto, gran gol di Buonavita al diciannovesimo del primo tempo. Il calcio di rigore di Eric Fedeli riporta il risultato in parità. Mattia Giardi firma da lontano il sorpasso del Faitano sul Cailungo. Buonavita riprende gialloblu nella ripresa per il 2-2 che non è il risultato finale perché Daniele Friguglietti non perde mai il vizio del gol e all'ottantasettesimo segna il 3-2 per il Faitano. Grazie per la visione!